Buongiorno a tutti, mi dispiace non essere lì con voi per questa importante iniziativa sulla quale il MIUR, questo governo in genere, sta assolutamente manifestando una attenzione rispetto ai temi che tratterete oggi, perché sono i temi che abbiamo trattato noi nel provvedimento sulla buona scuola. Il tema dell'inclusione è uno dei temi centrali del provvedimento che abbiamo approvato in Parlamento e sarà uno dei temi centrali nella discussione sulla legge delega che stiamo già affrontando qui al Ministero con dei tavoli a cui stanno partecipando associazioni, esperti che ci daranno una mano per tirar fuori un provvedimento che sia utile affinché il tema della disabilità e dell'inclusione a scuola non sia un tema trattato con ipocrisia immaginando che basta una quantità di ore di sostegno, una quantità di insegnanti di sostegno per risolvere il tema dell'inclusione. Ci sono sicuramente i temi quantitativi ma c'è anche il tema della qualità del sostegno e di come costruiamo l'inclusione. Noi ci affidiamo tanto al ruolo dei bambini perché il tema dell'inclusione, se è affidato ai bambini alla loro spontaneità, è un tema che funziona. Spesso quando si sono intromessi gli adulti invece non si sono riusciti a fare dei provvedimenti corretti per cui ci affidiamo a loro e i provvedimenti saranno coerenti a quello spirito di naturalezza dell'inclusione che è nello spirito dei bambini e di chi vive la classe e la scuola ogni giorno.